Improvvisarsi un canguro nel tentativo di controllare la palla e rivedere il corner Farsi sparare da un cecchino durante un alleggerimento sul portiere Assumere un paio di droghe pesanti prima di un rinvio con le mani Immagire completamente gli scarpini nell'olio pieno di una partita Immagire completamente i guantoni nell'olio pieno di una partita Calciare il pallone con il non utili tacco verso la propria porta Mostrare a Roberto Carlos chi è il numero uno nei tiri d'aria nel fondo Per un gol di rovesciata sempre nella propria porta Assumere droghe ancora più pesanti Correre fino a tre quarti di tempo per compiere un salto E poi tornare indietro fungendosi un pinguino per due volte Grazie a tutti Abbiamo! Ciao